Cucco, 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 cucco Lei ora si convince che è tempo di salire sul furgone No! Io non ci voglio nessuno qua dentro! Sono la dottoressa Agneta Gottmundsdottir È scomparsa da 5 anni, stasera compirà 15 anni Se conosci il mio nome conosci la mia reputazione Ma io sono un'esploratrice psichiatrica Quindi la meta della mia spedizione sarà quel mare artico, ghiacciato Che è la mente criminale Li massacrano di domande tutto il tempo Senza pensare che magari uno ha anche bisogno di una pausa La mia collezione di video era sul retro del capato E invece le mie ragazzine erano nel corpo principale dell'edificio Ma tutto a volto nel cielo Eh sì, eh sì, eh sì Io la immaginavo che cresceva E lui l'aveva buttata sotto terra Io non credo di aver lei fatto male Sì invece... Il dottore dice che è solo stress Quella troia di una dottoressa Lo stress sta qui Io lo so dove sta lo stress Che questo morso qui Che cazzo c'entra con lo stress Andiamo? Si parte Il dottore dice che è stato molto più Dottore dice che è stato creativo